Buongiorno da Carla Clua con le previsioni del tempo di Arpal. Persistono le condizioni di instabilità sulla Liguria con una bassa probabilità di temporali forti per domani, giovedì 31 agosto, sulle zone B, C ed E, ovvero centro, levante e versanti padane di levante. Variabilità fino a venerdì accompagnata da un aumento delle temperature. Ecco il dettaglio. Oggi mercoledì 30 agosto la presenza di aria fredda e instabile in quota favorisce durante le ore pomeridiane lo sviluppo di rovesci e temporali più probabili su Alpi Liguri e Appennino di Levante, possibili locali sconfinamenti costieri. Venti deboli in regime di brezza, locali rinforzi da sud-sud-est in serata sui rilievi, mare mosso a Levante poco, localmente mosso altrove, temperature massime in aumento sulla costa tra 25 e 29 gradi, nelle zone interne tra 26 e 28 gradi. Domani giovedì 31 agosto, giornata tra il variabile e l'instabile a causa di un flusso umido maritimo che favorirà l'innesco di rovesci e temporali a macchia di Leopardo, più probabili sul centro Levante. Non si esclude qualche episodio di forte intensità. Venti deboli meridionali con rinforzi sui rilevi centrali, mare mosso a Levante con motondoso in aumento su tutti i settori, temperature minime stazionarie, un lieve aumento lungo la costa tra 18 e 21 gradi, nelle zone interne intorno 13 e 14 gradi, massime stazionari sulla costa tra 26 e 29 gradi, nelle zone interne tra 26 e 28 gradi. Dopodomani venerdì 1 settembre, irregolarmente nuvoloso con annuvolamenti più compatti su zone interne dove nel corso del pomeriggio potranno verificarsi brevi episodi temporaleschi. Venti deboli in prevalenza meridionali, mare mosso, motondoso in calo a partire da Ponente, temperature minime stazionarie lungo la costa tra 18 e 21 gradi, nelle zone interne tra 13 e 15 gradi, massime lieve aumento sulla costa tra 25 e 30 gradi, nelle zone interne tra 27 e 29 gradi. È tutto, seguite gli aggiornamenti sul sito arpal.liguria.it, sui nostri social, sul canale Telegram e ricordate di scaricare l'app Meteo 3R disponibile su Google Play e Apple Store. A risentirci! Grazie a tutti! Grazie a tutti!